Beh, diversi aspetti, analisi e conclusioni, noi diciamo che abbiamo accertato che il PD ha trattato la banca Monte dei Paschi come se fosse sua, l'ha usata come un bancomat per finanziare in modo facile amici di partito, è stata usata per salvare banchieri vicini all'Opus Dei come è successo nella vicenda della banca Anton Veneta, comprata con l'autorizzazione di Banca Italia, una banca comprata a scatola chiusa, senza nemmeno fare un'analisi del suo reale valore, non è quindi un mistero che determinati poteri forti come la massoneria, l'Opus Dei, altri circoli ristretti sono stati i protagonisti di questa vicenda, non è una spesa di storie ma è la triste realtà di questa fotografia tutta italiana dove ahimè il tutto sta continuando ad accadere anche nel presente, in netta continuità con il passato, il presidente del Consiglio Matteo Renzi non è eletto nessuno, non si capisce con quale mandato sta gestendo questa delicata crisi della banca, nominando, dando indicazioni per nominare persone a lui gradite, quindi è una balla fuori la politica dalle banche ma ci sembra proprio dentro la politica nel partito democratico. Ricordo a tutti che le persone con le quali Renzi sta gestendo la crisi sono i soliti persone coinvolte nelle cosiddette porte girevoli, parliamo di Grilli, Grilli all'epoca dell'acquisizione Banca Anton Veneta era ministro del governo Monti, era ministro dell'economia e delle finanze, è colui il quale doveva vigilare sulle operazioni della fondazione Monte dei Paschi, così non ha fatto, è colui che prima era dentro il ministero, dentro le istituzioni pubbliche, poi lo troviamo oggi dentro JP Morgan. Lo stesso Mario Draghi autorizzò l'acquisto sulla Banca Anton Veneta, questa banca pagata molto di più del suo reale valore, il solito Mario Draghi che prima era dentro Goldman Sachs. Noi siamo molto preoccupati di questo groviglio armonioso, di questo intreccio di poteri forti, in netta continuità col passato e ahimè il mercato, il mondo richiede al paese Italia più trasparenza, più competenza, più onestà e una terza età rispetto ai poteri forti. Ecco, lei consigliere ha attaccato anche sulla nomina del nuovo amministratore delegato con qualcosa che era proprio trasparente perché in Berlin ci farebbe parte del consorzio di banche che è pronto a sostenere l'amento di capitale. Ma certo, ma io intanto diciamo una cosa, noi come Repubblica Italiana siamo soci nella banca Monte dei Paschi con il 4% attraverso il ministero, quindi si pretenderebbe almeno un percorso trasparente parlamentare dove il Parlamento si esprime e dà un indirizzo al Presidente del Consiglio. Oggi ci troviamo in una situazione delicata di un Presidente del Consiglio non eletto da nessuno, di un Parlamento incostituzionale che continuano a gestire questa grave crisi con i soliti strumenti che l'hanno creata. E per noi questo è inaccettabile. Ecco, l'ultima domanda che faccio. Profumo ha parlato più di politica di masoneria dentro MPS. Lei ha ravvisato invece un ruolo importante da parte del PD. Spesso le due cose sono sinonimi. Abbiamo accertato la presenza dei poteri forti in determinate vicende che hanno contribuito al dissesto finanziario della banca come per esempio l'acquisizione banca Anton Veneta, questa banca comprata a scatola chiusa. Quest'operazione sostanzialmente è stata indirizzata da poteri forti quale masoneria, quale l'Opus Dei perché sappiamo tutti che si scelse di sacrificare la banca Monte dei Paschi per salvare la banca Santander di un banchiere vicino al Vaticano. Questa è la realtà. Ci sono questi poteri forti, masoneria Opus Dei, ci sono i poteri clienterari partitocratici di partiti che hanno negli anni preferito gestire gli utili della banca attraverso la fondazione rispetto ad una sana e prudente gestione della fondazione stessa. Il tutto con il beneplacido degli organismi di vicinanza. Banca d'Italia, Consob, Ministero dell'Economia e delle Finanze non hanno svolto il loro lavoro di controllori e allora imputiamo una grave responsabilità su quanto è accaduto.